Quando una squadra per un allenatore rasenta la perfezione, quanto può essere felice il proprio responsabile? Innanzitutto Marco perdonami, ti rubo due secondi per dedicare questa grande vittoria, questa grande prestazione al nostro magazziniere Mauro che ieri ha avuto una perdita importante in famiglia. Gli voglio dire che siamo tanto vicini in questo momento brutto e lo vogliamo con noi il più presto. Per quanto riguarda la prestazione dei ragazzi sono contentissimo. Veramente c'è stata una prestazione importante dall'inizio fino alla fine dal punto di vista tecnico, dal punto di vista difensivo, dal punto di vista atteggiamento. Non posso dire nulla ai ragazzi nel primo tempo, finire la prima forzione solo sull'1-0 è un peccato perché è creato tantissimo, si è arrivato veramente tantissime volte sotto porta. Dobbiamo essere un po' più cattivi nel fare più gol. Però possiamo dire che prolificò così il Teramo in casa non lo era mai stato, quindi ci stiamo avvicinando anche dal punto di vista e soprattutto concesse 0 palle-gola ad una squadra che è in trasferta e ne aveva 23 su 4. No, no, ma c'è stato un atteggiamento importante. Abbiamo trovato veramente la linea difensiva solo in centro campo, c'è stata una pressione uomo contro uomo costante. Veramente non posso dire nulla ai ragazzi, anzi voglio spezzare una lancia a favore dei giocatori lì davanti perché se sbagliano tanto è perché veramente devono fare tanti metri, perché gli chiedo veramente tanto sacrificio in fasi non possesso e veramente lo fanno. Ma questa è una squadra marchino che sta crescendo partita dopo partita, si vede dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della mentalità, però lo dico sempre, l'importante è rimanere umili perché veramente l'ostacolo è dietro l'angolo e noi dobbiamo essere bravi una volta che capiterà nel superarlo da grande. Era meno facile dal punto di vista della cabala vincere due partite casalinghe consecutive in quattro giorni, il Teramo ha sfatato anche questo partito. Soprattutto uscire da 3-4 partite secondo me è difficilissimo, quindi i ragazzi ne sono usciti alla grande, adesso si meritano anche due giorni, un giorno in più di riposo perché da punto di vista mentale hanno speso tanto, però ripartire subito mercoledì con la testa contro la fermana perché sicuramente sarà una partita difficilista perché la fermana è un'ottima squadra che al di là dei risultati è una squadra organizzata, allenata secondo me da un ottimo allenatore per la categoria, quindi non è una partita sottovalutare.